Ecco tutte le novità di Vinted per il 2024. Ciao sono Daniele per gli amici Subri e oggi vi voglio parlare di tutte quelle novità che Vinted ha messo in campo tra il 5 e il 12 febbraio del 2024. Mi raccomando però se siete interessati alla compra e vendita di oggetti usati online e non solo, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella degli avvisi per non perdere neanche uno dei contenuti che ogni settimana faccio uscire qua sul canale. Che bello tornare a fare video, questo è il primo video del 2024 e appunto vi parlerò delle novità per quanto riguarda Vinted. Ce ne sono alcune molto interessanti ma prima vi devo dire la mia grandissima novità ovvero ho aperto il mio profilo Patreon nel quale potrete prenotare le consulenze, chi vorrà magari avere delle delucidazioni sul proprio profilo di vendita o perché no farmi qualsiasi altro tipo di domanda ma anche prendere delle guide tra cui proprio una dedicata a Vinted. Per tutti coloro che non hanno tempo di stare magari a vedere tutti i video o ne vogliono sapere di più sull'argomento ma iniziamo con le novità di Vinted. Tutti quelli iscritti a Vinted avranno ricevuto di sicuro questa email però non è stata chiara per molti infatti tanti mi avete chiesto spiegazioni anche tramite Instagram e a tutti ho risposto non vi preoccupate perché farò un video a riguardo e infatti eccolo qui. Allora vediamo che cosa dice nello specifico. Il primo punto dice abbiamo aggiunto più informazioni sulle nostre politiche relative ai contenuti nel rispetto del regolamento sui servizi digitali. Adesso andiamo ad analizzare però che cosa vuol dire. Sulle privacy policy potrete trovare tutto ciò al punto numero 18 si estende al 19 si conclude con il 20. Allora tralasciando che cosa dice il punto 18 che è che cosa vedrai sul nostro sito dopodiché quali sono le tue e le nostre responsabilità la cosa interessante è quella al punto 20 come verranno gestite le controversie perché sì potrete anche fare una controversia contro Vinted vediamo come. Nel paragrafo 20 c'è scritto controversie tra te e Vinted se non riusciamo a risolvere una contestazione sollevata attraverso il nostro modulo per le controversie e se cliccate qua accederete direttamente a quel modulo o se fossi soddisfatto del risultato e penso vogliano dire insoddisfatto del risultato puoi cercare di trovare una soluzione utilizzando il sistema di risoluzione delle controversie online della Commissione Europea o contattando gli organi nazionali di tutela dei consumatori responsabili quindi praticamente un'associazione consumatori e via dicendo per quanto riguarda noi italiani cliccando sull'apposito link delle controversie come potete vedere potrete innanzitutto selezionare l'ordine ad esempio dopodiché caricare le foto e descrivere il problema tutto ciò se per caso non vi soddisfa quello che praticamente Vinted ha deciso e capita spesso come si può vedere non è che si può fare granché nel senso Vinted consiglia di contattare associazioni consumatori senza magari metterci in mezzo l'avvocato e via dicendo per fare praticamente un'azione legale contro la decisione della piattaforma il secondo punto riguarda l'età degli utenti qua c'è scritto abbiamo semplificato le regole sulle limitazioni dell'età degli utenti a dire la verità no io non ho trovato nulla in merito c'è sempre solo scritto che i minori di 18 anni non possono vendere e acquistare su Vinted il terzo punto forse è il più interessante perché parla di rimborsi infatti c'è scritto abbiamo chiarito alcune regole in merito alla spedizione al rimborso delle spese inoltre a partire da aprile 2024 quindi tra poco sarà possibile restituire i singoli articoli di un set ma vediamo nello specifico che cosa intende Vinted trovate tutto nel punto 14 che per l'appunto riguarda la protezione degli acquisti allora salto tutta la prima parte che se volete vi leggete mentre è molto interessante la tabella che tipo di rimborso puoi ottenere? puoi ottenere il rimborso di alcuni costi sostenuti come descrizione nella tabella qui di seguito andiamola a leggere se acquistate un singolo articolo presente sulla piattaforma nulla di diverso rispetto a prima commissioni per la protezione acquisti vengono restituite il prezzo dell'articolo pure il costo della verifica articolo anche il costo della spedizione prepagata pure il costo di spedizione di reso se paghi la spedizione del reso i costi relativi saranno detratti dal rimborso se il pacco viene smarrito danneggiato non ti saranno adebitati i costi di spedizione del reso ci mancherebbe ancora per quanto invece riguarda i singoli articoli significativamente non conformi alla descrizione che facevano parte di un set ma reso non riguarda l'intero set ricordo disponibile da aprile 2024 in questo caso quindi che cosa succede commissione per la protezione acquisti è un po' incasinata praticamente spiegano che verrà ricalcolata in base a quali articoli si restituiranno il prezzo dell'articolo rimborso completo costo della verifica dell'articolo non è applicabile perché non c'è se si tratta di un set costo della spedizione prepagata rimborsato mentre il costo della spedizione di reso se si paga la spedizione di reso i costi relativi saranno detratti a rimborso come prima se viene smarrito danneggiato non ti saranno adebitati i costi della spedizione di reso e fin qui penso tutto chiaro adesso però vediamo che cosa succede se si restituisce l'intero set di articoli una nota molto interessante è questa non è richiesto a reso degli articoli significativamente significativamente non conformi alla descrizione perché contraffatti per ottenere il rimborso devi restituire solo gli articoli del set ritenuti autentici quindi attenzione se si compra un set in mezzo ci sono due articoli contraffatti su cinque bisogna rispedire quelli autentici direttamente al mittente in questo caso commissione per la protezione acquisti viene rimborsato il prezzo articolo pure il costo della verifica non è possibile si tratta sempre di un set costo della spedizione prepagata anche il costo di spedizione del reso se paghi la spedizione del reso i costi saranno detratti da rimborso come prima se il pacco viene smarrito noti saranno adebitati i costi per la spedizione del reso e questo è tutto come prima quindi che cosa cambia? cambia che adesso un acquirente qua lo dico per i venditori non è che si trova la scusa è però qua il set non va bene quindi è contraffatto un articolo su dieci mo mi tengo tutto e ciaone a te no 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 adesso invece le cose cambiano perché bisogna restituire tutti gli altri articoli e al massimo tenersi quello contraffatto perché non dovrà essere restituito ora è un po' magari complesso ma penso che questo diciamo che aiuterà parecchio i venditori ed eliminerà anche qualche furbetto ultimo punto per quanto riguarda le privacy policy invece riguarda il forum beh qua dice abbiamo rimosso i termini relativi al forum dato che questo chiuderà il 5 febbraio del 2024 quindi è già chiuso magari qualcuno di voi se ne sarà accorto qualcuno no dipende chi lo usa e chi non lo usa io onestamente vi dico gran cosa non me ne facevo assolutamente nulla del forum sì c'è magari qualche tips in più che si può chiedere ma ormai online si trova di tutto io faccio un sacco di contenuti anche relativi a qualsiasi tipo di problematica soprattutto tanti lo usavano per scambiarsi iscritti like e quant'altro che non serve assolutamente a niente beh diciamo che ci può essere un po' la cosa della pubblicità che viene meno ma si possono usare i gruppi facebook in ultimo però sono entrate in vigore il 12 febbraio le nuove regole di catalogo io me le sono viste tutte dalla A alla Z comparandole con quelle vecchie e non è cambiato assolutamente nulla se non per una specifica categoria che ve la vado subito a prendere nella tabella che potete leggere anche voi e si tratta degli articoli di plastica monouso come alcune versioni di stoviglie, posate, bicchieri, cannucce, coriandoli, palloncini, decorazioni, gonfiabili e quant'altro quello che serve diciamo per una festa attenzione però c'è una nota nella categoria ricorrenze e festività sono ammessi coriandoli in plastica stoviglie e tovaglioli in monouso non utilizzate quelle si potranno sempre vendere spero di avervi aggiornato al meglio con tutte le novità di Vinted per il 2024 poi magari si tireranno anche fuori qualche altra novità che ci sarà più in là magari verso l'estate oppure autunno vedremo io sarò sempre qui ad aggiornarvi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video